Ci occupiamo di musica adesso, una delle più grandi pianiste contemporanee, parliamo di Cristiana Pegoraro che ha incantato Amelia. Vediamo con Federica Becchetti. Un viaggio, scoperte, avventure, mete da raggiungere, lezioni da imparare, tutto questo a Itaca è il progetto che la pianista Cristiana Pegoraro ha composto ispirandosi all'omonima poesia del grande poeta greco Costantino Scavafis in un raffronto continuo fra il viaggio di Ulisse e quelle che sono le tappe di una vita. L'evento, promosso ad Amelia dal Comune e dal Narnia Festival, si è tenuto alla Sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani e fa seguito alle anteprime di aprile e luglio. Il ciclo di composizioni è stato anche presentato alla Carnegie Hall di New York con il patrocinio della rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite. Itaca nasce dalla necessità di unire gli uomini appartenenti a culture, paesi e tradizioni diverse, ha spiegato Cristiana Pegoraro, il Mediterraneo come luogo capace di esprimere solidarietà e come garante della pace fra i popoli. La replica si terrà domenica 11 settembre a Roma, al circolo del Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grazie. Applausi. Grazie.